Parichiamo qua, andiamo a raccogliere i giorni. Quelli sono i corsi dell'Università Popolare che facciamo alla sera. E quali sono i corsi? Stavo dicendo che eravamo accadittati anche noi, poi ci hanno tolto, noi ci hanno chiesto di essere tolto, se noi lo avevamo, eravamo anche nel progetto. Dai, basta, ma signora! E' un'altra cosa, ma signora, non è un'altra cosa, ma signora, non è un'altra cosa. Grazie a tutti.